Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti al TG Pomeriggio Sì lo so, avevo detto, ci vediamo durante la live per il TG Notte Però poi ho pensato, un po' di tempo ce l'ho adesso Le novità di cui discutere, gli argomenti ci sono ora Possibilmente da qui a stanotte salterà fuori qualcosa Allora faremo l'appuntamento con il TG Notte Se non dovesse saltare fuori nulla, Nicola va a letto un pochino prima Che non guasta, devo dire che non guasta Quindi, niente, eccoci qui a parlare, fare un'analisi dettagliata Di quelle che sono state le prove della seconda e unica tornata di test Dedicata alle prove che vengono fatte prima dell'inizio del Mondiale Volevo poi riprendere anche alcuni argomenti trattati nel video che ho fatto poco prima della live Non quello in auto, dove tra l'altro vi faccio i complimenti Avete notato il porpoising della Fiat Brava a 332.000 km Il bottoming Lo specchietto retrovisore pizzicato da un lato Siete fenomenali, cioè siete incredibili Quindi, bravi, complimenti Ottimo occhio, state sviluppando un ottimo occhio Poi però, volevo anche fare una cosa E qui torniamo seri Non l'ho fatto ieri, mi dispiace Perché ieri poi di notte non ho fatto il video Ora è arrivato il momento di farlo Io volevo ricordare la figura di Pietro Corradini Che è stato scomparso ieri È stato un meccanico storico della Ferrari Ha lavorato con tanti piloti Tra cui quello che era il mio pilota preferito quando ero bambino Ovvero Gerhard Berger Mi piaceva tanto E niente, lui è una di quelle persone che hanno fatto la Ferrari Perché la Ferrari non è fatta solo di dirigenti, di piloti Non è fatta solo di ingegneri È fatta anche di tanta gente che lavora nell'ombra E che però con il suo lavoro Pieno di impegno, sacrificio e passione È condita da tanto amore Per quello che si fa e per la scuderia Per la quale si lavora Soprattutto se si chiama Ferrari Ebbene, ha contribuito a creare il mito Tutto qua Volevo semplicemente ricordarlo Non in chiusura di puntata ma in apertura Bene ragazzi, adesso mettiamo la sigla Mettiamo quella del notturno Perché appunto non so se farò poi il TG Notte E poi iniziamo una puntata interessantissima Piena di tante considerazioni Probabilmente lunga Di tante sfaccettature tecniche Sigla Bene È curioso vedere come ieri Da tutti i commenti che si leggevano Eravamo dispersi in penultima fila E oggi invece Sainz vola Perché ha fatto un passo gara incredibile Ma è fatto veramente Nell'ultima parte di giornata Ha proprio simulato un intero Gran Premio Questo è molto importante Allora Io inizierei Da cose blande Che contano poco Ovvero i migliori tempi sul giro Contano poco perché ho tenuto in momenti diversi Sfruttando il motore Magari non alla stessa maniera Contano poco perché Ottenute con temperature diverse Anche con mescole se vogliamo Diverse Allora questi sono i tempi di giornata Al primo posto come potete vedere Abbiamo Sainz su Ferrari Che ha fatto il tempo Nella parte iniziale della seconda giornata di pomeriggio Quindi con ancora la pista molto calda E soprattutto l'ha fatto con le C4 Cioè le gomme rosse Che non ci saranno per il weekend di gara Questo che significa che fumo negli occhi No Molto probabilmente no È un buon tempo perché Se andiamo a guardare il Delta Time con la C3 Secondo tempo Di Cecco Perez Che ha avuto una giornata bruttissima Piena di imprevisti Di piccoli e grandi guasti Giri discontinui Una macchina per lui inguidabile Nella prima parte di giornata Poi sistemata Sulle sue caratteristiche di guida Ebbene Alla fine dei conti Poi ha fatto 128 giri Quindi ha recuperato Ma ripeto I giri dovete sommarli Per ogni team Quindi nel caso di Perez Ha girato solo lui Nel caso della Ferrari Abbiamo 84 giri Con Sainz E poi ne abbiamo 54 con le Claire Quindi sono più o meno altrettanti Anzi se devo essere sincero Facendo un conto così al volo Sono proprio 128 Sette decime e mezzo È più o meno il Delta Time Che c'è tra le due mescole Poi abbiamo Hamilton Che mi sarebbe tanto Tanto piaciuto vederlo Nell'ultimo Time Attack Che ha fatto Che non ha potuto completare Perché anzi Non l'ha potuto proprio Neanche iniziare Perché è uscita la bandiera Rossa Per delle prove Di safety car Luci Quello quell'altro Però Di questo parleremo A fine puntata Perché Questa è una cosa Che non funziona bene Ragazzi Che non va Tanto bene Andiamo avanti Con i tempi Ma ripeto Guardiamoli così Sommariamente Questi Non valgono nulla Abbiamo un ottimo Lanno Norris Comprimenti per il casco Mi auguro Che tu lo tenga Tutta la stagione Poi L'altra Red Bull Vedete anche la sigla È quella Red Bull Lo so Starete pensando Non Nicola È il Racing Bull No è il Red Bull Qua manca 19 Ma la monoposta è quella Poi loro possono dire Tutto quello che vogliono Questo per esempio È un gran bel tempo Per quale motivo Perché è stato fatto Con la C3 Ma è inizio Mattinata Ora Vero che ieri Le vetture hanno girato Tutto il giorno Però dovete sapere Che durante la notte Senza il passaggio Delle vetture La pista torna un po' green Torna un po' sporchina Perché Si è alzato un po' di vento Durante la notte È quello che mi è stato detto Questo porta sabbia in pista Quindi non ti regala Una pista Eccezionale Sin dal primo utilizzo Anche se le temperature Della mattina Non sono altissime Come fare il tempo Per esempio A ora di pranzo Però in ogni caso Pronti via È un gran bel tempo Poi ancora Abbiamo Stroll Con un'ottima Stone Martin Non tanto Per il tempo sul giro Ma per la guidabilità Della vettura Poi abbiamo L'Alpine Abbiamo La Flowheeds Racing Loro non usano Flowheeds Perché non ci capiscono Niente Con tutti quei colori Si si confondono E niente Poi via via Scorrere tutti gli altri Però I tempi Quelli veri Ragazzi Non sono quelli Che avete visto I tempi Quelli che contano Sono quelli Del passo gara Che sono più o meno Confrontabili Tra di loro Ma anche qui Con il beneficio Dell'inventario Perché Andiamo a prendere Quelli di Science Ragazzi Questa è una simulazione Non passo gara Ma una simulazione Di gara Con L'utilizzo Di tutte e tre Le mescole Dubito che lo faranno Poi effettivamente In gara Può essere di sì Per carità Anche perché Una cosa È cambiata Tanto Nella maggior parte Delle vetture Quest'anno Rispetto all'anno scorso Cioè Il consumo Gomme Adesso per esempio La Ferrari Ha dimostrato Anche se Vi dico la verità Ancora Non è perfetta Però È molto migliorata Rispetto all'anno scorso Dovete considerare Che i tempi In gara Di Science L'anno scorso Nell'ultimo Stint Cioè Quelli lì Fatti Qui In questa Colonna Erano più o meno La bellezza Di Un secondo e mezzo Due Più di due secondi A giro più lenti E parliamo solo Degli ultimi Dieci Tredici giri Presi in considerazione Significa veramente Tanto Ma Questo è il momento Cioè La parte della puntata Sulla quale Io mi voglio Soffermare un po' di più Perché Li voglio analizzare Con voi Allora La C3 Attualmente Con banda gialla Quella montata In questa foto Da Science Sarà la rossa Che si userà In qualifica Durante il Gran Premio E noi abbiamo Un tempo di attacco Forte 1,36,7 Come si fa Con la gomma Più morbida Poi 7 netto 7,7 7,9 8,1 8,8 Questo è il tempo Di utilizzo Di questa gomma 8,1 8,1 8,5 8,7 8,6 8,9 8,8 Quindi non c'è stato Lasciate perdere Il tempo di attacco Volutamente Aggressivo Però non c'è stata Una caduta Netta Simile a quella Dell'anno scorso E poi comunque Stiamo parlando Di una C3 Quindi della rossa Futura Che verrà utilizzata Durante il Gran Premio Ripeto Ve l'ho detto poc'anzi Molto meglio Ma non perfettissima Ancora migliorabile E fidatevi Delle mie parole Andiamo avanti Qui Il gioco Si fa veramente interessante Perché qui ci sono 17 giri Qua ci sono 21 giri Fatti con la C2 Quella che diventerà La gialla Del Gran Premio Allora Il giro d'uscita Dai box Dopo il pit Non lo contiamo Abbiamo Un 7,2 Al primo giro E un 7,2 All'ultimo giro Lasciatelo perdere Questo 40 Non è I tre secondi Che trovate qua Non sono la caduta Della gomma Assolutamente Lasciate Perdere questo tempo Perché viene preso Con la vettura Già in rallentamento All'ingresso Della corsia Dei box Per rispettare Il limite Degli 80 Quindi È un tempo Da non considerare È il giro di rientro Però quelli da considerare Sono questi 37,2 L'ultimo vero giro 37,2 All'inizio Con un miglior tempo Di 30 Dov'è che sta 37,1 Ripetuto un paio di volte Vedete qua Ma poi siamo sempre là Anche qui Siamo quasi a fine estinte Di nuovo 37,1 Grande Ma poi quello dove Veramente tu rimani Col sorriso in bocca Anche se mi dà più soddisfazione Quello fatto con la gomma più morbida È l'ultimo turno Perché appunto Paragonato A quello Dell'anno scorso 35,5 Il primo giro Poi in mezzo Anzi a fine sessione 34,999 Ultimo giro 35,6 Quello del taglio Del traguardo Del 58,6 Se non ho fatto 57,6 Quanti giri 42 58,6 59,6 Forse addirittura Giro Comunque Quelli che sono Un intero Gran premio E forse Anche qualche giro In più Ragazzi Queste cose Noi l'anno scorso Ce le sognavamo Ma A notte fonda Cioè voglio dire 35,2 Primo giro 35 Andiamoli a rivedere Perché mi sono Pure Emozionato Scusate 35,5 Primo giro 35,6 Ultimo giro Penultimo giro 35,5 Cioè questo è un passo Mostruoso Mostruoso Sempre Paragonabile Alla Ferrari Un confronto Da fare con gli altri Da prendere Con le pinze Però un ottimo confronto Su se stessi E vorrei tornare All'argomento Dell'intervista Di Leclerc Ufficio Faccine Non mi sembra La stessa faccia Dell'anno scorso Ma soprattutto Lui Da pilota Questo è quello Che ho Recepito Ha detto Una cosa straordinaria Ha detto Ragazzi Noi l'anno scorso Avevamo una vettura Che in una curva Era sovrasterzante Nella stessa tipologia Di curva Un giro dopo Due curve dopo Diventava sottosterzante Poi sovrasterzante Poi andava via Sulle quattro ruote Cioè Non si capiva niente Soprattutto Non sapevi cosa aspettarti Quest'anno La musica È diversissima E questo Conta Veramente Veramente Tanto Veramente Tanto Ragazzi Continuo a indossarlo E Poi ha detto Un'altra cosa Questa molto grave Cioè dire O perlomeno Non l'ha detta In quel frangente Però è venuta fuori Cioè dire Che l'anno scorso I piloti Non sono stati Tenuti in considerazione Per quel che riguarda La progettazione Della vettura Questo è veramente Grave Ragazzi Loro al simulatore L'hanno guidata Solo nell'ultimo periodo Quando oramai Era tutto deciso La SF23 La F2024 O il progetto Di partenza Hanno iniziato A guidarlo A metà anno A metà 2023 Questo significa Che tu indirizzi Il progetto Un po' come vuoi E questo è importante Perché tu Stai ascoltando Il pilota Le indicazioni Che ti dà In base a ciò Che prova Virtualmente Ma comunque prova Questo significa Che chi Era l'anno scorso Alla guida Del team Chi ha deciso La monoposto Del 2023 L'anno scorso Inteso come 2022 Perché poi Sappiamo tutti Benissimo Che inizio 2023 E subentrato Vassar Ebbene Se ne è Ampiamente fregato Dei piloti Cioè Questo è un dato di fatto E c'è poco Da dire È una cosa Impensabile Soprattutto Se ti chiami Ferrari E sei un top team È già impensabile Sulla Haas Figuriamoci Su una Ferrari Quindi Questa è una cosa Molto grave Adesso Lecler Cosa ha detto Che la vettura È precisa Che la vettura Dove la metti Sta che soprattutto Quando stai per affrontare La curva Sai ciò Che ti devi aspettare A livello di sensazione Questa è una roba Molto importante Fondamentale Se tu vuoi andare forte Come un'altra cosa Fondamentale Che è saltata fuori È appunto Avere una certa costanza Di rendimento Durante la gara Per quale motivo Perché se tu sei Distante Tre decimi Ma non su un solo giro Ma sul passo gara Sai che puoi spingere Nello sviluppo Puoi cercare una macchina Che va più forte Perché tanto Le gomme Le mantieni Non le consumi Esageratamente Non vai a perdere passo Se tocchi qualcosa Alla voce prestazione L'anno scorso Se toccavi passo Calava la prestazione Se toccavi prestazione Calava passo Era quello che cercavo Di dirvi Nel video analisi Delle due vetture 23 e 24 A Fiorano Bene Andiamo avanti Sempre parliamo Ancora per un attimo Di Ferrari Perché anche Sainz È abbastanza soddisfatto Del comportamento Della vettura E Sainz È uno Che di solito Non si sbilancia Con questo Tirando le somme Che vogliamo dire Assolutamente nulla Semplicemente Che c'è una vettura Di base Buona Da poter sviluppare Nel tentativo Di agganciare Il Red Bull Punto Finito Parliamo Un po' di tecnica Perché Mi avete chiesto Richiesto oggi Simone Micinilli Che evidentemente Che salutiamo con affetto Ma non ha Guardato il video Dove l'ho spiegato Che cos'è questo Un sensore Così come questo Questo non è una telecamera Per fare riprese Carine Da mostrare Poi ai fan No È un sensore Che va A inquadrare La bandella Laterale Dell'ala Per misurare La flessione Dell'ala In quel punto Mirando Degli adesivi Appositamente Attaccati Per questa prova Andiamo ancora avanti Con un po' Di tecnica Anche perché Analizzare Le altre vetture Non è facilissimo Ripeto le sensazioni Di oggi Secondo me Soprattutto in gara Avremo una buona Mercedes In qualifica Ancora non l'ho capito Ecco perché Era fondamentale Vedere Quell'ultimo giro Di Hamilton Poi Un Aston Martin Che nelle mani Di Stroll Non è che oggi Abbia fatto Meraviglie Il test Dell'Aston Martin Di ieri È molto simile A quello fatto Dalla Ferrari Ieri Cioè Hanno studiato La vettura In varie situazioni Quindi lasciamoli Perdere i tempi Domani la vedremo Nelle mani Di nuovo Di Alonso E sarà molto Più valutabile Però a livello Di guidabilità A me l'Aston È piaciuta Cioè Era abbastanza Neutra Sincera Non vedevi Dei difetti Spiccati Per quei pochi Onboard Che abbiamo avuto Oggi Poi la McLaren Forse Tra tutte È quella Un filino Più nervosetta Però comunque Sembra molto Performante Anche nel tempo Di attacco Con la C3 Fatto nello stesso Momento Anzi un po' Prima di Perez E un po' Dopo di Sainz Sempre con la C3 Non è andato male Era lì E questo Fa ben sperare Per un mondiale Dove ci si possa Divertire Andiamo Andiamo poi Alpin Poveri piloti Spero che Ocon E Gasly Abbiano una chance Migliore Per poter sviluppare La propria Carriera Andiamo in casa Red Bull Perché oggi La giornata di Perez Sembra il calimero Della situazione È stata Veramente Bersagliata Da tanti problemi Uno di questi All'impianto Frenante Che ha letteralmente Preso fuoco Poi l'abbiamo visto Rientrare lentamente I box L'abbiamo visto Soprattutto litigare Con la monoposto In mattinata Quindi O oggi hanno fatto Anche loro Uno scan Di quello che è Tutta la compilation Di assetti disponibili Oppure veramente Stanno messi male A proposito Cioè Stanno messi male Con Perez Perché con Westappen Alla grande Anche se devo dire Che Poi Dai e dai Lavora e levora Perez L'ha portata Nella sua direzione Di guida Alla vettura Perché Difatti Poi Non era più nervosa Era molto guidabile Molto stabile Cioè Un po' Sui binari Come è apparsa ieri Nelle mani Di Verstappen Ma con prestazioni Sì Perez è andato più forte Come tempo Di Verstappen Ieri Però ieri È il primo giorno E oggi il secondo Una cosa Una cosa che Veramente Mi ha Lasciato così A punto interrogativo È quel sottosterzo O quel modo Di affrontare La 10 Quella curva Chiusa Che c'è Prima di affrontare Il dritto E lì ho visto Un'altra cosa Molto interessante Da parte della Ferrari Ovvero Lì Tutte e due I piloti Girano A differenza Dell'anno scorso Dove puntavano Il cordolo Quindi il punto di corda Senza problemi Girano un po' Tondeggianti E' come se avessero bisogno Di inserire la vettura Un po' Morbida Per non perdere Velocità di percorrenza In quella curva Se vanno troppo dentro Magari Rischiano di innescare Un sottosterzo Continuo Non esagerato Ma continuo Che va a diminuire La velocità di percorrenza In curva La velocità di percorrenza Minima Un'altra cosa Che ho notato È come Sainz Affrontasse in maniera Nettamente diversa Quella curva Sia nel time attack Che sul passo gara Nella simulazione Passo gara Oppure proprio Nella simulazione di gara Perché lì cambia una marcia Quando sei con la vettura scarica Quella curva là La fai in terza La tiri E poi metti quarta L'anno scorso In qualifica Sainz Che usa di più Lo short shift Per non fare correzioni Rispetto all'eclare Toglieva subito La terza In qualifica E metteva immediatamente La quarta Facendo appunto Uno short shift Cioè un cambio prematuro Della marcia Per evitare Lo slittamento Delle ruote Slittamento di potenza Perché hai poco grip Quest'anno la terza La terza la tirava tutta In qualifica Simulazione Quando è andato con le bianche L'un per l'altra Fino a quasi La fine dello stinto Quando mancavano Quattro Cinque giri Lì si perde una marcia Lui la seconda La tirava tutta L'anno scorso A volte in gara Addirittura Andava di terza Per non usare La seconda Quindi rinunciava Un po' Di freno motore In frenata Staccando Anche prima E tutto ciò Ti riduce di tanto La velocità minima Di percorrenza All'interno Di quella curva Questa è una cosa Veramente buona Ho visto la Ferrari Che ha fatto Poche simulazioni Di partenza Qualche altro team Ne ha fatte di più Vedi Red Bull Ieri Per esempio Però anche lì Potrebbe rientrare La cosa In quello Che è Una delle ipotesi Che abbiamo fatto Per giustificare Una Red Bull Così forte Ieri Ora ne parliamo Non tutti Forse avete visto Il video di prima Quindi Cos'è che non Mi è piaciuto Della partenza Della Ferrari Torniamo un attimo Indietro Quando Sainz L'ha provata Prima Secondo Ok Seconda Terza Ha avuto Un attimo Di slittamento Di ruote Se si fa In gara Si perde Una posizione Poi Casa Red Bull E finiamo Ieri Io Non lo so C'è un qualcosa Di strano Nel senso che Sono andati Troppo forte Per essere Il primo giorno Di solito Loro si nascondono Quindi Le ipotesi Sono tre Lo ridico per l'ennesimo volto Sono su un altro pianeta O Hanno bisogno Hanno avuto bisogno Di studiare I flussi interni Della vettura Il raffreddamento Interno Così diverso Dal passato In condizioni In condizioni limite E per questo Hanno tirato fuori tutto Terza ipotesi Tempi Monstré Per il caso Horner Che comunque Se non l'avete visto Ragazzi È saltata fuori La foto Della ragazza Che lui Tra virgolette Ha corteggiato Cioè certe volte La natura È veramente crudele Perché pensate Che bella ragazza Che abbiamo Perso Cioè Questa è la ragazza Che Horner Ha corteggiato A chi vi somiglia Perché ho letto Dei commenti Che non tutti Avete capito La Come dire L'humor Inglese Di questa fotografia Però devo dire Una cosa Oh Abbiamo perso Un qualcosa Da avere Quell'esemplare lì Maschio Non femmina Che peccato Che davvero Chapeau Qualcosa Veramente carina Quindi capiamo Ampliamente Il perché Horner Si sia spinto Così Tanto Tra l'altro Horner Oggi in camicia Bianca di mattina Ma in divisa Red Bull Di pomeriggio Cos'è cambiato Di mezzo C'era La conferenza stampa Ma l'anno scorso Se andate a rivedere Le divise Cioè Le foto Stavano sempre In borghese Loro Durante le prove Quindi Questo vuol dire Tutto E non vuol dire nulla Aspettiamo Gli eventi Andiamo avanti Ancora Con un po' Di tecnica Perché vi voglio Far vedere Un cambio Di ala In casa Stone Martin Sono passati Da un'alia Più carica A un'ala Un pochino Più scarica E poi i sensori Messi Nell'ala Posteriore Da parte Dell'Alpin Quindi loro Per vedere un po' Come funziona La vettura A livello di impatto Con i flussi aerodinamici In questa zona Hanno montato Questi sensorini Poi ancora Ragazzi Vi voglio far vedere La William Che ha avuto Bisogno Subito Dietro Le bocche Delle pance Di Aprire Queste due Feritoie Feritoie Per raffreddare La vettura La vettura E quella di adesso La si riconosce Appunto Dai bazooka Qui Infine Volevo discutere Di questo Aspetto Qui Allora Red flag Di mattina Perché si è tolto Puntommino Io credo Che bisognerebbe Discutere Una volta Per tutte Della casistica Ferrari A Las Vegas Se dovesse risuccedere Come ci si comporta Punto di domanda Ed è uno Quindi in F1 Commission Sarebbe ora Che tirassero fuori Certi argomenti Poi Questa è la ripartenza Dei ragazzi Che guidano Le vetture di Formula 1 Che hanno deciso Di divertirsi Un po' Nelle ultime tornate Hanno simulato Un po' Una fase di gara È stato Veramente bello Osservare questo Però A un quarto d'ora Dalla fine Del secondo Giorno di test Ne manca solo uno E poi hanno finito Di un campionato Del mondo Di Formula 1 Dove tra l'altro C'è stata già Una rossa Mi spiegate Perché Andate a rovinare Gli ultimi tentativi Di Time Attack Che valgono oro Per i team Valgono oro Con Una simulazione Di bandiera rossa Una simulazione Di bandiera gialla Una simulazione Di safety car Ma perché Forse metto le mani avanti È probabile Che io Mi sia perso qualcosa Ma guardando le immagini Ma guardando le immagini Io queste situazioni Di pericolo Non le ho viste Quindi mi scuso Se per caso Mi sono perso qualcosa Ma se non fosse così Ma lasciateli girare E provare fino all'ultimo Un quarto d'ora Vale oro Mi auguro che domani Non ci sia La stessa storia Bene Video finito Mezz'oretta Non ce l'ha tolta nessuno Oggi Spero vi sia piaciuto Però le cose da analizzare Non veramente tante Se è così Iscrivetevi al canale Lasciate un like Un commento Attivate la campanellina Io vi mando Un grosso Bacio Se ci sono novità Ci vediamo stasera Scappo al lavoro Ciao